Canon EOS M3, mirrorless di casa Canon, uscita a maggio 2015. Amatec Blog oggi ve ne illustra lo spacchettamento o se preferite unboxing. Vediamo insieme cosa troviamo all'interno della confezione di Canon EOS M3 in kit con l'obiettivo 18-55 IS. Oltre ai manuali d'uso e manutenzione che sono ben quattro, in cui all'interno troviamo anche la lingua italiana. A partire da destra troviamo la mirrorless Canon EOS M3, confezionata separatamente dalle dimensioni molto molto ridotte, esattamente come ce le immaginavamo. Seguire l'obiettivo 18-55. E poi carica batteria Canon da muro, il suo cavetto ovviamente. La tracolla Canon Ed un cavetto micro USB per il trasferimento dei dati, il collegamento della Canon EOS M3 su PC o Mac. Ed ultima, ma non meno importante, la batteria originale Canon. Inoltre a cura di安